Cominciamo con il secondo speaker di oggi, che è Maurizio Helves, che è ingegnere software e consulente a Freedancer, è una delle colonne portanti fra l'altro di WordPress TV. Oggi ci parlerà di un argomento che appena ho letto la descrizione abbiamo conquistato, e ciò è di un progetto che è P Loves Carla, che è un bellissimo esempio di come sostanzialmente dietro WordPress non è solo un software open source, ma c'è una comunità con la C maiuscola. E quindi a te la parola. Grazie mille per la presentazione. Ciao a tutti, grazie per essere qua. Anche per me è un talk troppo diverso. È la prima volta che parlo di una questione più umana dentro di WordPress. Il mio nome è Maurizio Helves, come bene ha detto, sono ingegnere informatico e faccio lo sviluppatore di web con WordPress. Sono argentino, habito a Madrid, così se sbaglio parlando italiano, scusatemi. Sono anche brand ambassador di SiteGround e mi potete trovare sul tutto internet come Mau Helves. Maurizio Helves diventa Mau Helves. Troppo facile. Ho detto che questo talk per me non è facile perché forse mi conoscete per talks più tecnico che io faccio intorno a Italia, ma questa volta io volevo parlare del lato più umano che c'è dietro a tutto questo. Detro a me, detro a voi, detro a questo posto, detro alla comunità di WordPress. Voglio parlare del caso di Carla Saiz. WordPress è un CMS, già lo sappiamo, è un software libero, è un software open source che è creato da migliaia di persone in tutto il mondo. Persone che formano una comunità, la comunità di WordPress. Persone che si aiutano, che si sostengano e che aiutano a altre persone a cambiare la sua vita, creando nuovi posti di lavori, creando nuove aziende e permettendo la diffusione di contenuti che prima erano controllati.